Nessuno sa dove siamo. Ci siamo soltanto noi due. Abbiamo avuto un incidente d'auto. Dov'è la mia ragazza? April. C'erano delle persone in casa. Non ci vive nessuno da anni. Io ho visto qualcuno. Amico, venga fuori. C'è stato un malinteso. Aiutatemi. Io sono un cittadino americano. Ero in vacanza con la mia ragazza. Dovete darmi un passaggio. Per Atene, l'ambasciata americana si trova lì. Siamo in pericolo. È spaventato. Lo capisco. Ma io starò sempre al suo fianco. Chi è che mi insegue? Vuole uccidermi? Deve consegnarsi al distretto di polizia locale. Se lo faccio, sarò morto in meno di mezz'ora. E' finita, Beckett. Che cosa volete da me? Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social. YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!